Il bilancio della TEAM racchiude una serie di attività, non solo l'igiene urbana ma abbiamo anche i VIT, la verifica di impianti termici, l'attività della segnaletica che per la città ritengo sia importante, l'attività del verde pubblico e l'attività dei cimiteri. La segnaletica, sì, ci stiamo muovendo bene anche se abbiamo già parlato con il Comune, il Comune è d'accordo, abbiamo bisogno di risorse più importanti. La raccolta differenziata permette al singolo rifiuto di poter essere riutilizzato. Oggi non c'è più il concetto del riciclo ma si sta cercando di portare avanti il concetto del riutilizzo, del far sì che la plastica usata torni in materia prima e torni a fare la plastica. Io sto cercando in tutti i modi di far sì che questo concetto del riciclo sia quello per noi più importante ed è per questo che attraverso le nostre misurazioni e tutta l'attività che svolgiamo sul campo cerchiamo di stare il più attenti possibili. Quindi anche il segnale del calo di un 1% o della presenza di più bustoni neri vuol dire per noi avere un campanello allarme che va riscontrato, verificato soprattutto sul campo. Le temperature e l'ambiente climatico in cui viviamo non ci hanno aiutato quest'anno, pioggia e sole hanno fatto sì che l'erba venisse molto più rigogliosa del solito. Abbiamo delle difficoltà ma stiamo lavorando, le nostre squadre sono sul forno crematorio, il problema è questo, abbiamo tutto per poter partire. Io però prima di poter fare un altro investimento ho bisogno di essere un po' più con le spalle coperte rispetto ai miei indici di bilancio che oggi andiamo ad approvare. Il controllo analogo che ringrazio, i revisori, il collegio sindacale, tutti quelli che hanno partecipato per far sì che questo bilancio fosse soppesato anche dagli ordini competenti ci hanno dato l'ok. Quindi adesso abbiamo un po' più le spalle coperte, riusciremo a muoverci, non spalle coperte nel senso che io ho bisogno di fondi miei personali perché è un investimento. Però purtroppo anche oggi gli istituti di credito prima di poter concedere un finanziamento ed ottenerlo a dei tassi accettabili ha bisogno del nostro bilancio esercizio. Grazie.